Oggi siamo andati a scovare un vino biologico e senza sorfiti aggiunti della linea BioItalia.it Questo è un Chianti di OCG, ma andiamo a vedere tutte le caratteristiche durante il nostro test. Guardando la bottiglia nel suo insieme risulta elegante. L'etichetta è caratterizzata da uno stile moderno, quasi a voler accentuare l'innovativa tecnica di vinificazione di questo prodotto. Ci troviamo infatti di fronte a un vino totalmente naturale, biologico e privo di sorfiti aggiunti. Forse qualcosa in più poteva essere fatto dal punto di vista del design generale. Il tappo di buona qualità e di sughero monoblocco sicuramente in linea con la filosofia di naturalezza del vino ha garantito una buona tenuta e allo stesso tempo l'assenza di muffe o di difetti vari. All'interno del calice questo vino sfogge una colorazione rosso granato totalmente priva di difetti visivi con una trasparenza medio alta ma comunque tipica per un Chianti. Al naso nonostante l'immediata percezione alcolica, ricordiamo che questo vino ha una gradazione del 14%, si percepisce un tipico aroma vegetale fresco con note dei frutti di bosco che poco dopo lascia spazio a una gradevole nota speziata. Il tutto è ben equilibrato e ci fa capire che la vinificazione senza sorfiti è stata condotta in maniera del tutto corretta. Al momento dell'assaggio questo Chianti ci conferma le sensazioni piacevoli già percepite a livello affattivo infatti pur avendo una tannicità lievemente vegetale risulta essere nel complesso corposo e rotondo decisamente ben bilanciato. Anche dopo la deglutizione il vino regala ancora una piacevole persistenza. Come abbiamo visto è un vino corposo quindi lo possiamo abbinare tranquillamente con cacciagione, carne rossa e primi piatti tipici toscani. Mi raccomando seguiteci su Facebook, su Youtube e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!